buongiorno al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi parleremo di mordersi le unghie mordersi alle unghie addirittura sanguinare quando un ragazzino a fine 10 anni anch'io mi mordevo le unghie poi mi sono detto perché me ne devo mordere come gli amici volevo essere diverso alla fine sono riuscito anche da solo perché tu in qualsiasi cosa deve uscire da solo oppure grazie all'ausilio all'aiuto dell'ipnosi vera e professionale con la b maiuscola per cui ti invito se è un tuo caro tuo figlio te stesso te stessa che è questo problema dell'onicofagia oppure mangiarsi le unghie mordersi le unghie o mangiarsi le unghie benissimo vai presso un professionista l'ipnosi vera e professionale della tua zona inizia delle sessioni domande vedi se risolve il tuo problema oppure se non ci riesci oppure non vuoi girare cappelle mandami un'email ai prologi associati che ho già libero a punti e ti consiglierò per il meglio visita la mia fan page su facebook ipnosi autiprosi al dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologi associati puntocom iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesse il dottor claudio saracino e facer condividi con amici parenti perché può essere quel quid e che gli cambia la vita e visita anche i profili instagram e twitter e benessere ipnosi soluzione di cesse il dottor claudio saracino ricordate la mia missione qui è sdoganare la parola ipnosi a fin di bene a per te i tuoi cari quindi a prescindere dal sottoscritto è soltanto i miei video il mio materiale a titolo informativo che poi se vuoi comprare perché esista anche del materiale a pagamento della mia associazione in prolage associati perché hanno un bacio un abbraccio al prossimo video